Settimana scorsa Paolo Barnard aveva scosso lo studio e non solo dicendo questo. Voglio raccontare in 30 secondi un episodio che mi è successo alcuni mesi fa. Non posso dire né dove ero né chi è la persona protagonista, posso dire che è un alto ufficiale della Guardia di Finanza. Questo uomo mi ha convocato, mi ha guardato in faccia e mi ha detto Dottor Barnard, io sto disobbedendo agli ordini del Ministero perché se mandassi i miei uomini a fare i controlli nei negozi, nelle botteghe, nei capannoni dei piccoli e medi imprenditori io manderei al macello delle famiglie italiane. Ora io mi rivolgo al vertice della Guardia di Finanza e dico voi dovete imitare l'esempio di questo collega. Dovete disobbedire a un governo di Matteo Renzi che è servo di una tecnocrazia, europea che fa gli interessi di 100 speculatori e noi siamo 60 milioni di italiani, servo di una tecnocrazia europea che ha esautorato il Parlamento italiano, la nostra Costituzione e allora nel nome dell'Italia e di almeno due generazioni di vostri ragazzi voi dovete disobbedire. Non mandate i vostri uomini a fare i controlli a chi sta cercando di sopravvivere disperatamente alla chemiotassazione dell'Eurozona. Io voglio dire questo, ho commesso un reato, ho invitato la Guardia di Finanza a disobbedire a questo governo di questo pupasso della troica che si chiama Renzi e voglio reiterare questo reato, reinvito la Guardia di Finanza a fare quello che ho detto. Però voglio spiegare che quello che sto dicendo si basa su delle nozioni di macroeconomia molto solide. L'evasore fiscale non è mai un criminale sociale, non lo è e non lo può essere. Dal bottegaio al grande evasore e vi spiego perché. Perché lo Stato crea la moneta, emette la moneta, la deve prima spendere per cittadini, aziende e solo dopo la può ritirare in tasse. È impossibile che le tasse che vengono ritirate dopo la spesa finanzino la spesa. Non c'è un ospedale, non c'è un asilo nido, non c'è una pensione che venga finanziata dalle tasse e questa è una legge di macroeconomia immortale. Allora, cosa servono le tasse? Le tasse servono a qualcos'altro. Lo ripeto molto brevemente perché se no uno dice, ma allora cosa serve tassare? Perché gli stati moderni, scusate, gli stati moderni tassano? Tassano perché le tasse sono il metodo che lo Stato usa per imporre ai cittadini di usare quella moneta. Si tassa per regolare l'economia. Se l'economia corre troppo le tasse si alzano, se l'economia si impantana le tasse si abbassano. Oggi dovrebbero abolire l'IVA a zero e il cugno fiscale a zero. Si tassa per contenere l'inflazione perché se c'è troppo denaro che circola si drena denaro con le tasse e si tassano i grandi capitali per evitare che gli oligarchi diventino addirittura più potenti degli stati. Guardate che una delle concezioni errate dell'evasione fiscale riguarda anche i grandissimi evasori, quelli che mettono i soldi nei paradisi fiscali perché tutti i capitali evasi dalle tasse prima o poi vengono spesi, rientrano nel circolo economico e rientrano nella domanda. Però abbiamo detto che l'evasore fiscale non è un criminale sociale perché non nega allo Stato né un posto letto né una pensione di ospedale, né una pensione né un asinolindo. E allora quando io dico che l'Italia deve arrivare allo sciopero fiscale io non sto parlando di crimini contro il sociale e qui voglio fare un appello voglio fare un appello ai comuni e ai sindaci italiani perché il sindaco si percepisce regolarmente come il piccolo politico diciamo, uso una parola informale, come uno degli sfigati della politica nella realtà i comuni italiani che sono 8.057 sono l'economia di questo paese potete scrivere una pagina di storia mettetevi assieme in 500, in 1000, in 1500 bloccate i trasferimenti fiscali a Roma spaccate l'appartenenza di questa nazione all'Eurozona e voi spaccando l'obbedienza alla chemiotassazione imposta dalla Troica potete veramente scrivere una pagina di storia telefonatevi da questa sera, sindaci italiani va bene Paolo Barnard, ciao Paolo riprendiamo il filo del discorso in un certo senso si, comincio con una dichiarazione di Renzi assolutamente straordinaria l'Italia non si farà dettare la linea dalla UE, dall'Unione Europea che era sui giornali in questi giorni bene, diciamolo subito e lo voglio dimostrare in maniera molto seria se sulla sede del Presidente del Consiglio in questo momento ci fosse un FON e non Renzi sarebbe esattamente la stessa cosa l'Italia ha firmato, ratificato in legge nazionale tre trattati vado molto rapidamente il semestre europeo che delegittima completamente il Parlamento italiano la legge di bilancio del Paese deve essere prima presentata alla Commissione Europea e solo successivamente al Parlamento Sovrano cioè ex Sovrano la Commissione Europea può intervenire senza alcun ostacolo su redditi, tasse, servizi, Stato sociale il Trattato di Lisbona, sempre legge nazionale dice e stabilisce che il Parlamento italiano deve fare prima gli interessi dell'Unione Europea e dopo gli interessi nazionali le leggi passate dal Parlamento italiano devono essere adeguate sempre nel 100% dei casi alle direttive della Commissione Europea il fiscal compact stabilisce che dobbiamo fare il pareggio di bilancio che come sappiamo vuol dire dare agli italiani 100 soldi e tassarli per 100 soldi e rilasciargli assolutamente niente per il Paese se non facciamo questo, se Renzi disobbedisce cioè se il FON disobbedisce dobbiamo, siamo sottoposti a una procedura di deficit eccessivo che è di fatto un processo, possiamo essere multati per 2 miliardi di euro l'Italia, il Ministero del Tesoro deve chiedere il permesso alla Commissione Europea prima di emettere i propri titoli di Stato il deficit di bilancio dovrà essere lo 0,5% cioè sostanzialmente il deficit di bilancio che è la ricchezza nazionale scompare nell'economicidio dell'Italia ora, l'Italia è un Paese che ha una spesa pubblica di 800 miliardi toglie 80 miliardi di interessi sui titoli di Stato e toglie 220 miliardi delle pensioni rimane una delle spese pubbliche più basse d'Europa toglie 111 miliardi della sanità che è la spesa sanitaria più bassa di tutta l'Europa dove andrà il lugubre esattore delle tasse signor Padovan a fare i tagli sempre negli stessi posti cioè nelle pensioni, nella sanità, nell'occupazione pubblica stipendi pubblici e ovviamente città-serà ora, questo lugubre esattore farà il gioco delle tre carte lo vediamo tutti i giorni sui giornali il nostro Presidente del Consiglio Renzi che è il FON a Roma agli ordini della Troica che è la reale potenza che comanda questo Paese da quando abbiamo perso totalmente la sovranità beh, Padovan dovrà fare il gioco delle tre carte e tutto quello che investe verrà ripreso con gli interessi perché come dicevamo prima l'Italia deve restituire ogni singolo centesimo di spesa pubblica ai mercati, ai capitali privati a me dispiace dire queste cose di fronte a persone che ne soffriranno veramente dire che abbiamo un Presidente del Consiglio e un governo autonomo è veramente un insulto alla sofferenza di milioni di italiani Settimana scorsa Paolo Barnard aveva scosso lo studio e non solo dicendo questo Voglio raccontare in 30 secondi un episodio che mi è successo alcuni mesi fa non posso dire né dov'ero né chi è la persona protagonista posso dire che è un alto ufficiale della Guardia di Finanza questo uomo mi ha convocato, mi ha guardato in faccia e mi ha detto Dottor Barnard io sto disobbedendo agli ordini del Ministero perché se mandassi i miei uomini a fare controlli nei negozi, nelle botteghe, nei capannoni dai piccoli e medi imprenditori io manderei al macello delle famiglie italiane ora io mi rivolgo ai vertici della Guardia di Finanza e dico voi dovete imitare l'esempio di questo collega dovete disobbedire a un governo dovete dovete disobbedire a un governo di Matteo Renzi che è servo di una tecnocrazia europea che fa gli interessi di 100 speculatori e noi siamo 60 milioni di italiani servo di una tecnocrazia europea che ha esautorato il Parlamento italiano la nostra Costituzione e allora nel nome dell'Italia e di almeno due generazioni di nostri ragazzi voi dovete disobbedire non mandate i vostri uomini il sindaco si percepisce regolarmente come il piccolo politico diciamo, uso una parola informale come uno degli sfigati della politica nella realtà i comuni italiani che sono 8.057 sono l'economia di questo paese potete scrivere una pagina di storia mettetevi assieme in 500, in 1000 in 1500 bloccate i trasferimenti fiscali a Roma spaccate l'appartenenza di queste nazioni all'eurozona e voi e voi spaccando l'obbedienza alla chemiotassazione imposta dalla Troica potete veramente scrivere una pagina di storia telefonatevi da questa sera anche lei al popolo va bene Paolo Barnard ciao Paolo riprendiamo il filo del discorso in un certo senso si, comincio con una dichiarazione di Renzi assolutamente straordinaria l'Italia non si farà dettare la linea dalla UE dall'Unione Europea era sui giornali in questi giorni ebbene diciamolo subito e lo voglio dimostrare in maniera molto seria se sulla sede del Presidente del Consiglio in questo momento ci fosse un FON e non Renzi sarebbe esattamente a fare i controlli a chi sta cercando di sopravvivere disperatamente alla chemiotassazione dell'eurozona io voglio dire questo ho commesso un reato ho invitato la Guardia di Finanza a disobbedire a questo governo di questo pupasso della troica che si chiama Renzi e voglio reiterare questo reato reinvito la Guardia di Finanza a fare quello che ho detto però voglio spiegare che quello che sto dicendo si basa su delle nozioni di macroeconomia molto solide l'evasore fiscale non è mai un criminale sociale non lo è e non lo può essere dal bottegaio dal bottegaio al grande evasore e vi spiego perché perché lo Stato crea la moneta emette la moneta la deve prima spendere per cittadini e aziende e solo dopo la può ritirare in tasse è impossibile che le tasse che vengono ritirate dopo la spesa finanzino la spesa non c'è un ospedale non c'è un asilo nido non c'è una pensione che venga finanziata dalle tasse e questa è una legge di macroeconomia immortale allora cosa servono le tasse le tasse servono a qualcos'altro lo ripeto molto brevemente perché se no uno dice ma allora cosa serve tassare perché gli stati moderni scusate gli stati moderni tassano tassano perché le tasse sono il metodo che lo Stato usa per imporre ai cittadini di usare quella moneta si tassa per regolare l'economia se l'economia corre troppo le tasse si alzano se l'economia si impantana le tasse si abbassano oggi dovrebbero abolire l'IVA a zero e il cugno fiscale a zero si tassa si tassa per contenere l'inflazione perché se c'è troppo denaro che circola si drena denaro con le tasse e si tassano i grandi capitali per evitare che gli oligarchi diventino addirittura più potenti degli stati guardate che una delle concessioni errate dell'evasione fiscale riguarda anche i grandissimi evasori quelli che mettono i soldi nei paradisi fiscali perché tutti i capitali evasi dalle tasse prima o poi vengono spesi rientrano nel circolo economico e rientrano nella domanda però abbiamo detto che l'evasore fiscale non è un criminale sociale perché non nega allo Stato né un posto letto né una pensione di ospedale né una pensione né un asino lindo e allora quando io dico che l'Italia deve arrivare allo sciopero fiscale io non sto parlando di crimini contro il sociale e qui voglio fare un appello voglio fare un appello ai comuni e ai sindaci italiani perché la stessa cosa l'Italia l'Italia ha firmato ratificato in legge nazionale tre trattati vado molto rapidamente il semestre europeo che delegittima completamente il Parlamento italiano la legge di bilancio del paese deve essere prima presentata alla Commissione europea e solo successivamente al Parlamento sovrano cioè ex sovrano la Commissione europea può intervenire senza alcun ostacolo su redditi, tasse, servizi Stato sociale il trattato di Lisbona sempre legge nazionale dice e stabilisce che il Parlamento italiano deve fare prima gli interessi dell'Unione europea e dopo gli interessi nazionali le leggi passate dal Parlamento italiano devono essere adeguate sempre nel 100% dei casi alle direttive della Commissione europea il fiscal compact stabilisce che dobbiamo fare il pareggio di bilancio che come sappiamo vuol dire dare agli italiani 100 soldi e tassarli per 100 soldi e lasciarli assolutamente niente per il paese se non facciamo questo se Renzi disobbedisce cioè se il FON disobbedisce dobbiamo siamo sottoposti a una procedura di a una procedura Grazie a tutti.